Prima l'esecutivo cittadino, poi a seguire l'assemblea comunale. Hanno dato il via libera al nuovo vicesindaco del capologo pugliese. Si tratta di Vincenzo Brandi, assessore al patrimonio e all'edilizia pubblica residenziale, già consigliere di circoscrizione, il quale dopo cinque mesi copre l'incarico rimasto vacante a causa delle anticipate dimissioni per incompatibilità con alcuni ruoli in Camera di Commercio di Angela Partipilo, inizialmente designata ad occupare la poltrona numero due di Palazzo di Città. Brandi, 45 anni, alle comunali, è stato eletto consigliere nella lista di Realtà Italia, il movimento politico guidato da Giacomo Olivieri, poi dimessosi per assumere l'incarico in giunta. L'assessore alla cultura, Silvio Maselli, ha motivato la scelta unanime di Brandi per aver dimostrato in questi mesi disponibilità e abilità nella gestione dei rapporti politici e istituzionali. Il primo cittadino ha ringraziato il vice sindaco per aver accettato l'incarico e per aver scelto di condividere gli sforzi e l'impegno per il governo della città. Brandi ha commentato De Caro, sarà una valida spalla e una buona guida per i suoi colleghi, dimostrando dedizione e voglia di lavorare.